La cucina quotidiana, salve! Oggi cucina d'autunno. Sono stato in montagna, abbiamo raccolto questi bellissimi funghi, Cantarellus lutesiens, detto anche finferlo o finferla, parente stretto dei galletti, ma non sono galletti, sono finferli. L'abbiamo preso in Toscana due giorni fa, era freddissimo, ci ho preso anche il raffreddore, va bene, a parte questa amenità. Allora, cucina autunnale, risotto con la zucca e i finferli, ingredienti, riso carnaroli, cipolla, prezzemolo, zucca gialla, stile butternut, finferli, olio, sale, pepe e aglio. E alla fine del buon parmigiano. Tegami dal fondo pesante, mettiamo a stufare un pochino di cipolla e facciamo la zucca a dadini. Mentre la cipolla si sta stufando, in un tegamino, padellino, faccio profumare l'olio con i gambi del prezzemolo e l'aglio. E qui ci faremo i finferli. Per stufare la cipolla ci aiutiamo anche con questo goccio di brodo che sto facendo, per il risotto. E aspettiamo. Cipolla pronta, giù la zucca e lasciamo cuocere, aiutandoci sempre con il brodo. Via, l'aglio e il prezzemolo. E metto giù i funghi. Così. Sono bellissimi questi finferli, veramente belli. Lasciamo venire fuori l'acqua di vegetazione e poi ci fumeremo col vino. Eccola qua l'acqua. Come sempre i funghi fanno. L'acqua si è asciugata e adesso, da buon marchigiano, un bel goccio di verdicchio e lasciamo sfumare. Aggiustiamo di sale, di pepe, un pochino di brodo e lasciamo cuocere ancora. La zucca è cotta, l'ho schiacciata dentro il tegame perché è talmente poca che non vale la pena prendere il frullatore. E adesso giù il riso. Lasciamo andare in temperatura e comincieremo a mettere il brodo. Il riso è bello caldo. Giù il brodo. E facciamo cuocere pian pianino, aggiungendo il brodo quando è necessario. Il riso è avanti con la cottura. E adesso mettiamo giù i finferli. Anche ormai pochi minuti, 3-4 minuti dovrebbe essere pronto. Ormai ci siamo. Una noce di burro. Spegniamo. E facciamo sciogliere il burro. Ecco, con anche il prezzemolo. Un'altra giratina. E lasciamo riposare un attimo. Così. Ed eccolo qua il nostro risotto. Una bella grattugiata di parmigiano. E possiamo andare in tavola. Risotto, zucchero e finferli. Buon appetito.